Sei italiano? Sei italiano? No, sono americano. Sono americano. Come ti chiami? Ehi, come ti chiami? Mi chiamo Stefano. Mi chiamo Stefano. Chi è questa ragazza? Chi è questa ragazza? È un'amica. Questo film è nuovo? Questo film è nuovo. No, non è nuovo. No, non è nuovo. Sono le chiavi di casa. Dove sono le vadovi casa? Chi è Andrea? Chi è Andrea? È il papà di Alessandra. È il papà di Alessandra. Quanti anni ha tua sorella? Quanti anni ha Guarisele? Ha 25 anni. Ha 25 anni? Perché? Hai gatti o cani? Non ho cani, ma ho un gatto. Non ho cani, ma ho un gatto.